benvenuti a tutti in questo tutorial vedremo come poter utilizzare il particle flow per poter simulare un effetto di decomposizione di un oggetto mantenendo le sue coordinate e renderizzandolo però con cracatoa noi abbiamo questa piccola animazione eseguita con un setup abbastanza semplice del particle flow abbiamo poche particelle visualizzate in viewport poiché abbiamo solo 0,1% poiché esse sono abbastanza sono due milioni di particle da renderizzare non è visibile naturalmente con idle vediamo che abbiamo un elemento che è visualizzato come box che è un busto greco con una mappatura possiamo anche nascondere per comodità di fatti lui è diciamo il nostro emettitore il nostro object position object dove vengono posizionate le nostre particelle e vengono comunque posizionate in maniera di surface abbiamo uno speed by surface che è questo piano il quale è il mio emettitore il mio elemento che mi va a dire come verranno emanate le mie particle e anche esso ha un una mappatura tramite un gradient che in questo caso è a croce il quale va a definire qual è la potenza diciamo delle nostre particle infatti vediamo che esso ha la possibilità speed by grey ok grey multiplier e abbiamo la possibilità anche di dare un basale normale volendo possiamo dare anche una divergenza per avere un effetto un po' diverso abbiamo delle forze abbiamo uno speed test lo speed test di fatti è impostato a una certa velocità in modo tale che alcune particle vengono sparate quelle che vengono che hanno una certa velocità vengono considerate vengono inviate ad un altro evento abbiamo uno speed test poi abbiamo un collision che tramite un un classico deflector su quale cadono le mie particle abbiamo impostato alcune variazioni possiamo anche impostare una variazione diversa e una volta che collidono vediamo che esse si vanno a frizzare tramite un quest'altro 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 evento in quale abbiamo uno speed pari a zero zero anche in questo caso abbiamo uno speed by surface in quest'altro evento per quelle per le particle che sono verdi abbiamo delle forze del collision e poi abbiamo uno split group poiché non vogliamo assolutamente che le particle in eccesso vengano considerate in questo caso a questo punto io in posso benissimo crearmi la mia simulazione con krakato cosa molto importante abbiamo un un mapping object e un material static questo perché perché quando io vado a renderizzare se naturalmente ho non ho attive questi miei quindi vado un attimo a spenderli questi miei due operatori se io vado a renderizzare le mie particle in anche in krakato avranno un colore che si rifà praticamente al colore delle particle stesse quindi a quelle che abbiamo nel particle flow di conseguenza non è quello che io voglio ottenere io voglio ottenere invece un effetto contrario voglio avere sempre perennemente la mappatura del mio oggetto sulle particle di krakato di fatti vediamo che abbiamo delle particle che sono colorate come anche da viewport verdi e color sabbia non facciamo caso all'illuminazione in questo caso qua invece se io vado a attivare questo sistema avrò la possibilità di mantenere la mappatura e quindi anche il materiale che vado ad assegnare al mio elemento infatti ecco qui il render con il materiale assegnato che mantiene di fatti la posizione sulle varie particole in base alla sua posizione poi avremo comunque un effetto differente in fase di render grazie a tutti